Io sono una direttrice d'orchestra, ho scelto di fare questo lavoro che è abbastanza complesso già di per sé perché sono sempre uomini, di solito siamo abituati a vedere sul podio degli uomini, invece io ho scelto di fare questo lavoro da quando ero piccola e quindi ho studiato poi pianoforte, ho fatto tutto un percorso e sono in segno, in conservatorio in tante università in Italia, quindi in Italia anche all'estero, adesso sono visiting professor a Seul in un'università e lavoro tanto, faccio un lavoro che mi piace molto soprattutto. L'impedimento principale secondo me in Italia è la mancanza della speranza nei giovani, cioè il vero problema è che i giovani non credono di avere un'opportunità in questo paese e questo li demotiva e li scoraggia già in partenza, cioè gli impedisce di avere quell'energia di provarci seriamente, questo secondo me è il problema più grande, ovviamente è un problema vero, concreto, dettato dal fatto che le opportunità di lavoro nel campo della cultura e dell'arte in particolare sono tantissimi, le orchestre chiudono i fondi per lo spettacolo e per lo spettacolo dal vivo si dimezzano ogni anno, comunque si abbassano ogni anno, non c'è un investimento istituzionale sulla cultura, non si crede nel fatto che si debba studiare seriamente ad esempio la musica da quando si è bambini, non ci sono insegnanti specializzati nelle scuole, quindi chiaramente mancano le opportunità in questo paese, ciò nonostante credo che i giovani debbano provarci seriamente, perché quando si è preparati è vero che le opportunità sono poche, però quando sei un'eccellenza, quando sei veramente pronto, ci sarà il momento in cui qualcuno ora ha bisogno di te e in quel momento potrai mettere a disposizione le tue competenze, viene sempre questo momento. Grazie